Allora, siamo arrivati agli ultimi due articoli della questione 43. Vediamo subito di affrontarli. Sembra che allo Spirito Santo non si possa attribuire una missione visibile. Non c'è dubbio che questa missione c'è, però per Tommaso potrebbe, in riferimento alle obiezioni che adesso valuteremo, si potrebbe supporre che mentre il Verbo si è manifestato in Cristo, assumendo la natura umana, assumendo quindi la natura della creatura più nobile che poteva essere trovata nel creato, lo Spirito Santo invece si ha portato avanti la sua missione, ma assolutamente in modo del tutto invisibile. Vediamo il pensiero dove si parte da Matteo 3,16 dove c'è scritto che lo Spirito Santo è discesa sotto forma di colombra sopra il Signore dopo il suo battesimo. Potremmo anche fare riferimento alle fiammelle che calarono sui Apostoli rinchiusi nel Cenacolo. Quindi, allora, dice Tommaso, lo Spirito si è manifestato in forme visibilissime e insiste sempre, partendo dal principio che per arrivare alle cose di Dio bisogna partire dalle cose semplici, dalle creature, anche se questo rapporto non sarà poi unico ma analogico. È con naturale all'uomo giungere alle cose invisibili per mezzo di quelle visibili, perciò era necessario che le cose invisibili di Dio fossero mostrate all'uomo mediante quelle visibili. così era giusto manifestasse le missioni invisibili delle persone divine per mezzo di creature visibili. Diverse però dovevano essere le manifestazioni del Figlio e dello Spirito Santo, è evidente, perché se le due sono persone differenti, anche le manifestazioni si sarebbero dovute distinguere. Infatti, allo Spirito Santo, che procede come amore, amore, spetta di essere dono della santificazione, la grazia santificante. È il dono che si fa grazia santificante e che permette alla Trinità Beata di scendere e di essere ospitata nel cuore della creatura. Ma questo è dono. Chi è l'autore di questa santificazione? è il Cristo che attraverso la sua passione e la redenzione redime l'uomo. Perciò sono due ruoli differenti e come due ruoli differenti due sono gli strumenti che in qualche modo si rivelano in forma visibile agli esseri umani. Così come ci dice la Sacra Scrittura. La prima obiezione a me pare abbastanza infondata perché si passa ad un dunque che non è giustificato. Io ho cercato di sintetizzare qui il pensiero che troviamo in questa prima obiezione dove ci dice il figlio è stato inviato visibilmente. Va bene, di qui non c'è dubbio. Il figlio è stato detto minore del padre. Va bene, è stato detto minore del padre. Minore l'abbiamo visto anche in che senso. Minore in riferimento alla sua natura umana ma sarebbe potuto anche essere definito minore minore per quella pietà avevamo detto che il figlio deve al padre che avrebbe potuto essere l'esempio anche per noi creature. Lo Spirito Santo non è mai stato definito minore dal padre. Va bene, lo Spirito Santo non è stato inviato in modo visibile. Probabilmente qui l'obiezione fa riferimento al fatto che Cristo è stato considerato minore del padre perché ha assunto una natura umana. Dato che lo Spirito Santo non ha assunto una natura creata non è mai stato definito minore del padre. Sempre che si dia per scontato che questa sia l'interpretazione della predicazione del Cristo minore del padre perché altrimenti io vedo semplicemente delle constatazioni che non ci portano allunque. Il figlio è inviato visibilmente. Il figlio è detto minore del padre. Lo Spirito Santo non è stato inviato in modo visibile. Questa è l'obiezione. lo Spirito Santo non è mai stato definito minore del padre. Ecco, tra l'ultima affermazione e la penultima per me non ci può stare il dunque. E io, come Tommaso d'altra parte, in primo luogo contesto questa frase lo Spirito Santo non è stato inviato in modo visibile lo Spirito Santo è stato inviato spesso in modo visibile. Infatti Tommaso ci dice a motivo della natura che ha assunto del figlio si dice che è minore del padre. Lo Spirito Santo invece non assunse in una unità di persona la creatura in cui apparve. Quindi non si può dire minore del padre a motivo di questa creatura visibile. Quindi Tommaso mette tutto l'argomento in questa prospettiva. lo Spirito Santo non si è incarnato in una natura ben precisa. Quindi noi non lo definiamo minore del padre ma non perché non si sia mai manifestato attraverso una creatura. Può benissimo essersi manifestato attraverso una creatura senza aver riassunto la natura. Questo in riferimento all'interpretazione per cui Cristo è considerato minore del padre perché ha la natura umana nella prospettiva della natura umana. Io però ritengo che anche senza considerare questa situazione cioè il fatto che Cristo ha assunto la natura umana questa riflessione questa obiezione non sta in piedi non sta in piedi perché non c'è un rapporto di causa ed effetto le persone si possono manifestare in modi differenti il minore del padre può essere interpretato in quella pietà di cui abbiamo detto il figlio deve essere l'espressione nei confronti del padre senza con questo essere inferiore il minore tra padre e figlio abbiamo visto nella trinità non vuol dire un rapporto di inferiorità ma un rapporto di origine quindi abbiamo risolto la prima argomentazione diamo la seconda la missione visibile richiede l'assunzione di qualche creatura l'assunzione non necessariamente la missione del figlio per esempio fu fatta mediante l'incarnazione ora lo spirito santo non ha mai assunto creature visibili assunto nel senso che non ha mai partecipato di una natura visibile dunque o si nega che lo spirito santo sia inviato dunque si nega che lo spirito santo sia inviato visibilmente ma il fatto che ci si può manifestare senza necessariamente assumere la natura di una creatura visibile possiamo parlare infatti di segni ma guardate che i segni ci possono anche essere tra noi esseri umani quanti segni quante metafore quanti simboli senza aver necessariamente assunto quella particolare natura vediamo un po' come spiega Sant'Agostino la visione profetica la visione cioè l'ispirazione da parte di coloro che ebbero scrivere i libri dell'antico testamento non fu presentata agli occhi del corpo per mezzo di forme corporali ma avvenne nello spirito invece la colomba le lingue di fuoco queste sono parole di Agostino furono viste con gli occhi del corpo da quanti le viderò la colomba e il fuoco furono formati lì per lì per significare lo spirito santo sembrano piuttosto simili alla fiamma che apparve a Mosè nel roveto o alla colonna che guidava il popolo del deserto e ai fulmini e ai tuoni che si udirono quando sul monte fu data la legge perché le apparizioni di queste cose colpore ebbero luogo soltanto per significare qualche cosa per poi scomparire è la significazione non è l'assunzione di una particolare natura è la significazione quindi lo spirito santo si dice che fu inviato visibilmente in quanto fu manifestato mediante alcune creature formate espressamente per indicarlo c'è una manifestazione c'è una significazione mentre la seconda persona assume una natura creata lo spirito santo non assume natura creata però attraverso le creature significa significa dà il segno della sua presenza andiamo alla terza ogni creatura visibile è un effetto che manifesta tutta la trinità perciò perché abbiamo già detto che l'operare la potenza appartiene all'alternità non appartiene a una sola persona perciò mediante le creature visibili non si manifesta lo spirito santo più di un'altra persona di questo non c'è dubbio però quando si vuole mettere in evidenza l'opera specifica di una persona ecco allora che queste significazioni vogliono dare preminenza all'opera di un aspetto ben definito della trinità quelle creature visibili tuttavia le ha formate per mostrare l'uno l'altra persona in particolare di fatti come il padre il figlio e lo spirito santo vengono indicati con diversi nomi così essi poterono essere manifestati mediante cose diverse benché tra loro non ci sia separazione né diversità alcuna l'unità è salvata però c'è anche nell'unità dell'essenza ci sono delle relazioni e in riferimento alle origini su cui si fondano le relazioni ecco che le creature visibili che di volta in volta si presentano per rivelare una un'epifania come potremmo dire un'epifania sovrannaturale l'opera della trinità veata mettono in evidenza o l'opera di una persona o l'opera dell'altro o l'opera dell'altra così come le persone hanno dei nomi differenti padre figlio e spirito santo quindi senza togliere assolutamente la verità che è ad operare tutta la trinità beata non evidentemente una sola persona andiamo alla quattro il figlio fu inviato mediante la più nobile delle creature visibili cioè mediante la natura umana se dunque lo spirito santo fosse stato inviato visibilmente avrebbe dovuto esserlo mediante una creatura ragionevole ma non l'ha assunto la natura di questa di questa creatura per questo che il problema non si pone non era necessario che la creatura visibile formata a questo scopo fosse assunta dallo spirito santo in unità di persona non era pensabile che ci potesse essere una terza persona dove la natura veramente fosse di nuovo duplice cioè una natura divina e la natura non solo di un animale la colomba o la natura di un essere inanimato come la fiamma ma perché ma perché queste immagini non avevano lo scopo di agire ma semplicemente di significare la persona del Cristo ebbe ad agire nacque visse predicò patì la passione risorse ascese al cielo eccetera quindi era necessario l'assunzione di una natura creata per lo spirito santo tutto questo non era necessario perché tutte le immagini adottate per rivelare la sua presenza avevano un obiettivo ben preciso significare nient'altro non agire cinque secondo sant'agostino le cose visibili compiute per virtù divina vengono prodotte per ministero di angeli se dunque apparvero delle immagini visibili ciò fu per opera degli angeli in tal caso sono inviati gli angeli non lo spirito santo tante volte abbiamo trovato questi messaggeri ma allora lo spirito santo che ci sta a fare? era stato inviato lo spirito santo erano stati inviati gli angeli gli angeli erano uno strumento sono come le colombe sono come le fiammelle di fuoco in realtà è lo spirito santo che era inviato ad illuminare le genti o una persona specifica ed è questo il significato di queste immagini quelle creature visibili furono formate per ministero di angeli non per manifestare la loro persona non è che gli angeli dovessero manifestare se stessi ma dovevano manifestare lo spirito santo come la cosa rappresentata si trova nel segno corrispondente così come lo spirito santo si trovava nella colomba si trovava nelle fiammelle di fuoco così lo spirito santo si trovava in quelle figure in quegli angeli che si presentarono di volta in volta a degli uomini che noi abbiamo trovato nell'antico testamento andiamo al sesto argomento se lo spirito santo è mandato visibilmente cioè non si fa che per manifestare la missione invisibile perciò a coloro ai quali non è stata diretta la missione invisibile non si dovrebbe neppure indirizzare quella visibile e al contrario questa dovrebbe essere diretta a tutti quelli sia dell'antico che del nuovo testamento ai quali era stata indirizzata la missione invisibile cosa questa è evidentemente falsa cioè sostanzialmente l'obiezione dice ma se per una missione visibile è stato inviato lo spirito santo perché per tante altre visioni invisibili non è stato inviato lo spirito santo ma perché non se ne è ritenuto non se ne è ritenuta la necessità adesso andiamo anche a sindacare il padre eterno per queste cose non si richiede non si richiede che la missione invisibile si manifesti sempre esternamente mediante un segno visibile e chi l'ha detto? giustamente Paolo i Corinti scrive le manifestazioni dello spirito vengono concesse per utilità ora se queste manifestazioni visibili hanno un'utilità bene altrimenti se ne può benissimo fare meno e questa è l'utilità della chiesa l'utilità della comunità dei credenti perciò perciò ecco gli esempi ecco e ciò avvenne in modo speciale in Cristo e negli apostoli come dice la scrittura ebrei 2 3 la salvezza annunziata prima dal Signore è stata in noi confermata da quelli che l'avevano udita perciò la missione visibile dello spirito santo giustamente fu diretta in modo particolare a Cristo e agli apostoli nel battesimo di Cristo si compie la missione visibile sotto forma di colomba animale prolifico e che cosa voleva stare a significare la rigenerazione spirituale onde la voce del padre proclamò questo è il mio figlio di letto qui l'ho messo in modo errato quindi tiriamo via questo e mettiamo l'azzurro del testo sacro questo è il mio figlio di letto quindi battesimo era una rivelazione particolare era un messaggio particolare dello spirito e allora come per la colomba si voleva rivelare il dono della grazia così in Matteo questo è il mio figlio di letto ascoltatelo abbiamo l'invio di questo messaggio di speranza la rigenerazione spirituale e nella trasfigurazione di nuovo questo ascoltatelo attraverso questa nube splendente che in questo caso rivela la presenza visibile dello spirito e gli apostoli che noi li troviamo alitati per dare e ricevere la potestà dell'amministrazione dei sacramenti a chi rimetterete i peccati che saranno rimessi e poi ancora negli atti 2 e 4 cominciarono a parlare varie lingue cosa vuol dire varie lingue di nuovo una manifestazione dello spirito visibile per confermare il magistero della dottrina affidata agli apostoli ecco qui erano necessarie nella anche qui non andiamo noi a determinare il perché e il per come nella visione perfetta divina erano necessarie che l'opera dello spirito santo si rendesse visibile no si rendesse visibile però non era invece opportuno che parte dell'antico testamento fosse diretta alla missione visibile dello spirito santo perché ma perché prima doveva compiersi la missione visibile del figlio una cosa per volta prima il figlio anche perché una successione logica prima si doveva attraverso l'opera di dio costruire costruire in modo metaforico la grazia santificante poi veniva data questa grazia santificante agli esseri umani questo non vuol dire che prima di Cristo nessuno avesse ricevuto la grazia santificante ma il Cristo è di per sé l'attore di questa grazia santificante ecco allora nella successione il padre il figlio e poi lo spirito ed era giusto dunque secondo la nostra prospettiva secondo la nostra interpretazione poi magari l'interpretazione e il pensiero divino può essere anche differente noi Tommaso propone offre dell'ipotesi e questa è l'ipotesi e risposta all'obiezione cioè che lo spirito santo ha l'ufficio di manifestare il figlio come il figlio e il padre quindi una successione ben precisa vi furono tuttavia apparizioni sensibili delle persone divine ai padri del vecchio testamento ma esse non si possono chiamare missioni visibili fino a un certo punto qui capite però che non siamo nel dogma qui siamo nelle ipotesi in una organizzazione del pensiero cristiano teologico perché non vorremmo non possiamo chiamare anche queste missioni visibili però c'è una successione ben precisa e la successione ben precisa la troviamo nel nuovo testamento perciò quando noi siamo partiti qui con questa obiezione di fondo che è questa sembra che allo spirito santo non si possa attribuire una missione visibile è un errore perché lo spirito santo si è manifestato visibilmente più di una volta più di una volta e lo ricorda tutta l'opera che leggiamo nei testi del nuovo testamento articolo 8 che è l'ultimo vi detto sembra che una persona divina sia mandata soltanto da quella da cui è eternamente procede sia mandata quindi il figlio potrebbe essere solo mandato dal padre lo spirito santo potrebbe essere solo mandato dal padre del figlio vediamo se è così anche qui bisogna intenderci nei termini innanzitutto guardiamo il pensiero di Tommaso secondo la scrittura il figlio è mandato dallo spirito ai allora non è così Isaia 48 16 e adesso mi ha mandato il signore dio e il suo spirito parla la seconda persona allora anche lo spirito può inviare la seconda persona quindi qui abbiamo una prima persona una terza persona che vi è la seconda secondo me queste sono delle citazioni confesso il mio pensiero che non è molto in sintonia con Tommaso sono delle citazioni un po' stiracchiate però teniamole per buone dunque qui vedete che ho messo in evidenza il mandare e l'inviare il principio e la causa secondo alcuni una persona divina non è mandata se non da quella da cui procede ad eterno quindi chi Cristo può essere solo mandato dal padre lo spirito santo può essere mandato esclusivamente dal padre e dal figlio secondo questo modo di vedere i testi in cui si afferma che il figlio è mandato dallo spirito santo vanno riferiti alla sua natura umana per me qui è una interpretazione stiracchiata ed è stiracchiata perché se stiamo parlando del figlio il figlio è persona non ha due persone è una persona unica con due nature quindi è un po' stiracchiato pensare di nominare il figlio però intenderlo solo come figlio uomo e non figlio dio invece Sant'Acostino insegna che il figlio è mandato da se stesso e dallo spirito santo ed anche lo spirito santo viene inviato da se stesso e dal figlio così che non tutte le persone divine possono essere mandate ma soltanto quelle che derivano da altre quindi il Cristo e lo spirito sono derivanti da altre persone quindi possono essere mandate mentre tutte hanno il potere di inviare sia il padre che il figlio che lo spirito e possono inviare anche a se stesse io ripeto su questi argomenti mi pare giusto fermarsi però non mi sembrano essenziali se dunque la persona mittente si indica come principio della persona inviata quindi padre ad esempio nei confronti del figlio allora non qualsiasi persona manda ma soltanto quella che è principio della persona mandata quindi solamente il padre può mandare il figlio e in tal senso il figlio è mandato solamente dal padre lo spirito santo dal padre e dal figlio quando parliamo dunque di un mittente che è principio se invece la persona mittente si considera soltanto come causa degli effetti a cui mira la missione allora tutta la trinità manda la persona inviata come causa come causa efficiente noi sappiamo che è un'azione che viene predicata di tutta la trinità e non esclusivamente di una persona quindi tutta la trinità manda una persona e non dunque noi possiamo percepire come mittente esclusivamente il principio di quella persona ecco con questo direi abbiamo terminato la questione 43 e abbiamo terminato quindi questa trattazione sulla trinità beata e quindi passeremo poi ad un altro argomento che toccherà direttamente della creatura grazie a tutti